Sindaco, qual è la situazione a Torre Melissa in questo momento? Per quello che riguarda il mio comune la situazione, diciamo che linea di massima, è sotto controllo. È chiaro che ci troviamo di fronte a 16 casi, che se guardiamo quello che succede in altri comuni in tutta la Calabria ci possiamo ritenere fortunati. Ovviamente non possiamo abbassare la guardia. È necessario richiamare quotidianamente all'attenzione i miei cittadini e soprattutto con i carabinieri e la Polizia Municipale cercare di tenere sotto controllo quelli che sono soprattutto i comportamenti di quelle persone che ancora non hanno del tutto capito qual è il rischio che stiamo correndo. È chiaro che oggi l'obiettivo è quello di mettere insieme l'azione di controllo, l'assenso di responsabilità, l'utilizzo del distanziamento sociale, della stessa mascherina, nonché dell'igienizione delle mani, ma capire a che punto siamo con la vaccinazione. Questo è l'elemento principale su cui bisogna ragionare. A che punto siete con la vaccinazione? Ma con la vaccinazione diciamo che siamo al punto che è tutta la Calabria. Nel senso che si sono fatti i primi vaccini legati agli over 85 con un primo contatto. Ora il 31 ce ne sarà un altro che è il richiamo. E in più in queste ore, proprio in questi giorni, stanno definendo la pianificazione di altri interventi. Sicuramente il giudizio non è positivo, siamo in forte ritardo rispetto a quello che succede in tutte le altre regioni e soprattutto l'elemento principale che va sottolineato è una scarsa e una male organizzazione da parte dell'ASBA. Addirittura in alcuni casi non veniamo nemmeno informati che nei giorni successivi si tengono questo tipo di attività, quindi le vaccinazioni. E questo è molto grave anche perché come Comune potremmo aiutare l'organizzazione e soprattutto dare una mano a chi quotidianamente si impegna in questa direzione. Mi riferisco agli operatori dell'ASBA, ai medici di base e a tutti coloro che operano in questo settore.